Il paziente è gentilissimo, con me se può mi fa male, me e mia sorella ci ha rovinato proprio una volta me l'ho fatto male alla gamba, mi tocca, gli faccio ai ai e dice se vado a toccare l'altra gamba, mortacci tua, l'altra con quelle mani, se le tocca le fa male alla fine mi devi fare il tampone, vado a casa sua me preparo, entro dentro, mi preparo, arrivo a casa sua, fai il caffè con loro vado a far pipì al bagno, vado a camera di mia sorella, spostagli gli oggetti mi sono andato a vivere in Inghilterra, quelli che spostano tutti gli oggetti così quando torno a fare, che cazzo trovo? Io, saprei quindi faccio pipì al bagno, torno a cazzo, torno in salone e mio padre fa, vai in corridoio che mi preparo quindi vado a corrido, torno, cucina, lo trovo tutto abbardato coi guanti e la mascherina che cazzo sta a fare? Stammi lontano amo chiacchierato fino adesso, vi ho detto fai il percorso covid, o sono a pisciare che è il percorso covid? fai il percorso covid faccio il percorso covid, tutti i giornali per te, era una tristezza proprio arrivo nella stanza dove stava lui, c'era la poltrona di mio onno e due giornali, il messaggero appoggiato sulla poltrona mi ha detto, ma se stessi i finanziamenti del San Giovanni mi sono seduto, arriva lui e tira fuori una cosa così e mi fa, accomodati e anale uguale e dico, l'ho capito ripeti quello che hai detto accomodati, l'ho capito poi, è uguale prima di uguale accomodati nooo dopo accomodati è uguale ma tu ancora ti dico hai detto anale e beh anale è uguale no, no, se va bene per culo va bene per naso e mi fate fare mica usato ci mancherebbe altro che ho detto che mi ha fatto usato a un certo punto mi convince a fine mi convince mi metto lì così lui tira fuori sta cosa sembrava azzorro si metteva così e mi faceva stai fermo io dico, guarda tutto il mondo è fermo questi cazzo e le ticche le muovi solo te che ho detto a un certo punto me becca la narice in fila comincia a spigli spigli, spigli gli dico leva, leva leva che è diventata anale a fare tercino a portarci leva lo leva e fa uibò mi sono scordato il liquido che liquido hai detto? quello che avviene se è positivo o negativo baglio le cazzo mi ha detto la cosa più importante che sai scordare faccia occhio e poi c'hai ticche mi ha detto stai a fare foto perché lui stava fate un applauso a mio padre vorrei lasciare